previously on salassi medievali maledetto di**o maledetto m******o m****o la tua sinistra tu cazzo guarda porcos a**o separatoooooo ops scusa tanto sei mi l'ho basciato Aiuto, questo è pericoloso! Freast attack, Freast wins comunque eh! E' un massacro! Guarda, ti pari! No! Ma no, fermati, sono noi! Fermatevi! Aia, aia! Girati! Ricarigati! Ma... Ma che cos'è? Che son massa! Guarda questo pavido! Chi è questo buggatissimo? Chi è? Aia, come ha fatto? Oh, Winter, qua è inconsistente! Oh, come cazzo fa? Come cazzo fa quello là a farti contraattacchi così veloci? Mi ricordo una fase all'acqua party, mi ricorda? Non mi riuscite mai, non mi ha detto... Chi è que... Oh! Aia, Gatto! Foglio, gloria, guagato! Aia! Hai ucciso! Chi è quello? Eh... Sto avvicinarmi al centro, sono piccolino, sono nel menatars. Movento, questo è stronzo, ok Non vi ferite da di voi L'ho ucciso, movento Aiuto, aiuto, scegli gli arcieri che mi voglio spaccare il culo Pure io voglio fare l'arcieri che spaccare il culo Mannaggia, Godox Explorer! Porco di... L'ho ucciso, l'ho ucciso Non c'è L'ho levato, l'ho levato, mannaggia Evviva il Pole Hammer! Evviva il Pole Hammer! Evviva il Pole Hammer! Primi, chi sono? I primi, saranno i primi Ma dai! Ma vaffancio! Chi è? Chi è? Lug Lug, qua sono io, lag 150 di ping, connessioni di merda Telecom, ti odio Ti odio Ti odio No, no, no So solito No, no, no Giove il Poleath C'è io parlo Poi mi arrivo ad una bracciata in testa alla velocità della luce Anche quella è l'accia della mia vita, rompe il cazzo Il Po io salto oddio l'ho preso oddio porco io cosa ho preso io l'ho preso io l'ho preso io l'ho preso don't meet under dovete dirmi dove cazzo siete perchè è stato il pole hammer ok vedo ferruccio, ferruccio, rimani sta porco mondo, in bosca di quell'angolo buio si si va bene mi vedete a me eh? chi è questo? no a te non ti ho visto ferruccio nella telecamera lo spettatore se magari però rimane dov'è? fa un favore sto qua si sei qua, questo è johnny thunders che mi sta a sparare il mondo ma che cazzo ma che cazzo porco 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 sto morendo da poi io esco e vado a trovare un altro server uno con meno gente di livello 8000 che ci perde la vita qua sopra ma dai dai non mi pare di aver seguito la condizione oh galaxy explorer ciucciamelo 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 a un denzo il mio cadavere chec'e non è quello che ha $x il mio paior iii si è pure gandra giucciatemelo giucciamelo chiedi e di guern andre dove stai? 12 sono un palazzo dei final confrontations avec jedi CHE CAZZO EEEE Ah Dio ci sto oh Sto sudando, cioè ti rendi conto che sto sudando? Però la devi impugnare Sì io con la s*** BURCONU CHE DI BURCONU